Capitolo 8. Il debito ai tempi della pandemia. Tutti i discorsi fatti fino a questo punto, in merito alla dinamica del debito e alla sua sostenibilità nel tempo, si applicano in circostanze ordinarie. Eventi eccezionali, come la pandemia da Covid-19, che hanno indotto pesanti misure di contenimento nella maggior parte dei paesi del mondo, richiedono risposte fuori dall'ordinario e una tolleranza maggiore per le infrazioni e le regole vigenti in condizioni normali. Significa che, in caso di emergenza, è opportuno, oltre che giusto, che lo Stato intervenga e che non si ponga problemi su quanto debito deve fare e deve mettere per farlo. In un editoriale del 25 marzo 2020, su Financial Times, appropondito nella terza parte di questo libro, l'ex presidente dell'ABC Mario Draghi ha scritto a chiare lettere che, a fronte del concreto pericolo che il tessuto economico rimanga danneggiato in modo permanente, i governi devono intervenire per sostenere le imprese e le famiglie senza preoccuparsi della crescita del debito pubblico. Perché nel corso di questa emergenza si può derogare alle regole abituali? Fino a quanto può durare questo periodo di grazia? Dal punto di vista strettamente economico è ragionevole presupporre che il danno derivante dal mancato intervento dello Stato sarebbe significativamente superiore ai costi dell'intervento stesso. Dunque, il primo motivo che giustifica questa strategia e la conseguente deroga alla regola di emettere possibilmente solo debito buono è che si tratta della soluzione che arreca un danno minore alla collettività. In secondo luogo, è opportuno considerare che uno dei compiti che si prefigono in Stati moderni è quello di proteggere gli individui da venti negativi, estremamente dannosi, che avvengono a prescindere dalla loro volontà. Vale per le calamità naturali e per altri eventi catastrofici come le pandemie, appunto. Dunque, rientra al primo titolo tra i compiti di uno Stato intervenire in questa emergenza e qualunque considerazione in termini di sostenibilità del debito rischierebbe di rallentare, rendere meno efficace l'azione del governo in un momento molto delicato. Quali tipi di interventi rientrano in questa casistica? C'è il rischio che qualcuno possa approfittare della situazione? Un gran numero di lavoratori e imprese hanno dovuto sospendere la propria attività e ridurre drasticamente la propria libertà di muoversi, per ottemperare le misure di sicurezza introdotte dai governi al fine di limitare la diffusione della malattia. L'intera economia rallenta fino quasi a fermarsi perché ai mancati guadagni di chi non può lavorare vanno sommati quelli di chi, pur avendo continuato ad operare durante l'emergenza, ha visto ridursi drasticamente il proprio volume d'affare. Quest'ultima criticità permane oltre alla fase più acuta della crisi. Anche quando le misure di lockdown più stringenti vengono allentate, un elevato numero di persone continuano a muoversi e a consumare di meno. Dunque tutti quelli che forniscono questo tipo di prodotti e servizi si trovano di fronte a una domanda ridotta e in qualche caso possono trovare non più conveniente continuare a svolgere la propria attività. Dunque l'intervento dello Stato deve essere volto a fornire supporto agli individui che non hanno potuto guadagnarsi da vivere nel periodo più duro e alle imprese che non hanno potuto operare. Per queste ultime va tenuto conto che, oltre ai mancati guadagni, ci sono dei costi che non dipendono dal volume dell'attività. Lo stipendio dei dipendenti, l'affitto dei locali vanno pagati anche quando l'attività è ferma. Se il presupposto è aiutare che ha subito danni, è ovviamente plausibile che qualcuno ne approfitti, incamerando i benefici messi a disposizione dal Governo anche se non presenti i requisiti previsti in termini di danni subiti, fermi restanti i doverosi controlli da effettuare e le opportune sanzioni per gli abusi da combinare in una fase successiva, esiste un consenso abbastanza unanime in merito alla opportunità di concedere gli eruti senza troppi controlli preventivi, almeno durante la fase più acuta della crisi. La necessità di garantire un sostegno adeguato a tutti i soggetti bisognosi è superiore al rischio di qualche comportamento opportunistico che potrà essere individuato e sanzionato successivamente. Chiarite quali sono le regole e le circostanze normali e come si possa derogare ad esse nel corso della pandemia, il nodo più importante rimane quando e come ritornare alla normalità. In particolare il profilo al quale prestare la massima attenzione riguarda la verifica che i provvedimenti temporanei non siano prorogati oltre necessario, il controllo sulla fase di rilancio dell'economia per indirizzare le risorse disponibili verso impieghi che producano nel tempo crescita sufficiente a rendere il debito contratto per finanziare gli impieghi circolo virtuoso e debito buro. A questo proposito si evidenziano le criticità maggiori per il caso italiano. Per decenni l'Italia ha elargito sussidi, bonus e altre forme di trasferimenti volte ad ottenere consenso di breve termine. Come si fa a credere che questa volta sarà diverso? Come dal torto a chi teme che le misure di supporto che dovrebbero essere transitori non saranno mantenute oltre la fase di emergenza e che le risorse che dovrebbero essere destinate al rilancio non verranno sprecate? Questa è la sfida che Draghi ha lanciato dal palco del migliorismo. Italia deve dimostrare di poter agire in modo diverso da quando fatto in passato e lo deve soprattutto ai più giovani perché è su di loro che graverà maggiormente il debito che in questi giorni viene contratto per contribuire al rilancio dell'economia. Per epilogare, tutto il discorso sul debito pubblico e gli interessi da pagare alle condizioni di sostenibilità vale in circostanze normali. Un evento eccezionale come la recente pandemia impone di sospendere temporaneamente l'applicazione delle regole ordinarie e l'attuazione di provvedimenti straordinari. Per far fronte all'emergenza gli stati dovrebbero destinare al sostegno delle imprese tutte le risorse necessarie per evitare danni permanenti al tessuto economico. La sostenibilità del debito, contratto per salvare sistema produttivo, non deve essere una preoccupazione immediata. Nella fase più acuta dell'emergenza è tollerabile anche che alcune risorse vadano sprecate o che possa alimentare comportamenti opportunistici. Azzardo morale. L'emergenza tuttavia non dura e non può durare per sempre. Occorre vigilare sul fatto che i provvedimenti temporanei non vengono prorogati oltre i necessari e che nel lungo termine ci siano condizioni affinché il debito, contratto in emergenza, sia sostenibile. I giovani pagheranno il prezzo delle nostre scelte presenti. Di conseguenza caricarli di oneri eccessivi è ingiusto e moralmente deprecabile. Prima della pandemia è già avvenuto un vero e proprio furto intergenerazionale. Se non si regge la rutta, il paese è destinato al fallimento. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo che potete sostenere questo progetto di informazione ed educazione finanziaria iscrivendovi al canale YouTube di Massimo Famularo e mettendo un like ai video, ascoltando il podcast La finanza in soldoni sulle principali piattaforme oppure acquistando su Amazon il libro omonimo in formato cartaceo o ebook. Trovate tutti gli aggiornamenti anche sul blog massimofamularo.com. Grazie a tutti e a presto!